Anche tu sei un event maker. Conosciamo bene il tuo mondo. Fatto di creatività, pianificazione, competenze ed esperienza. Ma conosciamo bene anche le tue sfide quotidiane. L'industria degli eventi è sempre di corsa e non hai tempo per cercare novità e tenerti aggiornato. Ecco a te 360events.com Il primo marketplace degli eventi. La soluzione che ti permette di essere sempre aggiornato sul mondo degli eventi e che ti offre tantissimi servizi. Quando tu e il tuo team riceverete il prossimo briefing, provate a utilizzare 360events.com troverete la più vasta gamma di mezzi per eventi, le più innovative soluzioni tecnologiche di interazione, le più importanti novità in termini di strutture e materiale tecnico e il più ricco database di freelance e servizi per gli eventi. 360events.com è diviso in categorie di facile consultazione con le quali costruire la migliore proposta per il vostro evento. Abbiamo soluzioni già pronte, plug and play, personalizzabili e di facile gestione. Ma abbiamo anche soluzioni originali, adattate su misura per creare novità assolute che permetteranno di ottimizzare l'investimento. Utilizzando 360events.com ne scoprirai i vantaggi, tante soluzioni a portata di mano, un enorme risparmio di tempo. Sarai sempre aggiornato sulle novità dal mondo degli eventi e potrai contare sul nostro Activation Team per individuare le soluzioni più adatte. Noi di 360events.com ti aspettiamo per offrirti un mondo di soluzioni a portata di clic.